Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7, operai in nero e altri che percepivano il reddito di cittadinanza. Scatta maxi multa e la sospensione per una ditta di matino. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri durante un controllo in un'azienda di abbigliamento. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Lecce il prossimo 19 febbraio. Lo stesso giorno in piazza Santoronzo è stata organizzata una contramanifestazione delle sardine pugliesi. Ha raccontato alla moglie di essere stato reclutato nei corpi speciali. In realtà era nel Salento con l'amante. Protagonista è un uomo di Novara che è stato denunciato dalla Digos per porto abusivo di armi. Il provocatorio abito di Achille Lauro sfoggiato sul palco di Sanremo è made in Salento. La preziosa cappa merlettata e la tutina trasparente sono frutto di un progetto del direttore di Gucci, Alessandro Michele, condiviso con gli artigiani del lusso che operano nel Salento. La quercia vallonea di Tricase è in corsa per il titolo di Albero Europeo 2020. L'imponente albero monumentale di 700 anni e con una chioma enorme si contenderà il titolo insieme ad altri 15 bellissimi alberi di tutta Europa. Impresa del Lecce a Napoli che vince 3 a 2 con una doppietta di Lapadula e uno spettacolare gol di Van Coso su calcio piazzato. La seconda vittoria consecutiva dei giallorossi dopo il 4 a 0 rifilato al Torino ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi e le speranze di salvezza.